adesso vi spiego come si cambia il canale alla wifi a 5 GHz si va sempre sulla pagina 192.168.1.1 la password è sempre admin admin si va qui e invece il canale di solito sta messo su selezione che è il canale automatica nel mio caso ho messo 40 si preme ok e il modem riparte niente di più grazie per l'attenzione visto che c'è stato un utente che